Buonasera, sono Cristiano Favaro e sono sindaco del Comune di Piscina. Una comune che si trova nella pianura pinerolese e conta circa 3.300 abitanti. Volevo spiegare a tutti voi quello che stiamo facendo noi a livello di sindaci, con le nostre squadre, con i nostri gruppi politici e volontari in questo tempo di pandemia. Beh, innanzitutto abbiamo assolutamente l'obbligo di tenere informata tutta la popolazione sull'evolversi dell'epidemia. Quindi quasi giornalmente diamo aggiornamenti sul numero dei positivi, dei decessi, ahimè, e finalmente stiamo cominciando a dare anche i numeri relativi ai guariti. Il nostro sostegno più grosso che stiamo facendo in questi ultimi periodi sono legati alla distribuzione che abbiamo dato di mascherine gratuite, solvenzionate dal Comune. Ne abbiamo distribuite 2.500, praticamente quasi due per famiglia. Sono mascherine di stoffa, lavabile, che la gente ha apprezzato molto di questi tempi, appunto, nei quali le mascherine non si trovano. Di contro ci siamo impegnati per far sì che i buoni spesa, elargiti al nostro Comune per una montata di circa 20.000 euro da provvedimento della protezione civile, venissero dati a persone che realmente in questo momento così particolare ne avessero necessità, che fossero in stato di indigenza. Abbiamo seguito delle linee guida che abbiamo ottenuto dal nostro CIS, il Centro per i Servizi Sociali qui del Pinerolese, e siamo riusciti a distribuire circa 73 buoni spesa, nel senso a 73 famiglie, 73 nuclei. Siamo molto orgogliosi di questo, perché innanzitutto la distribuzione è avvenuta a spiano, senza tener conto, per esempio, di residenti. Ci siamo occupati anche di non-residenti, che erano in evidente stato di indigenza, indigenza e quindi di assoluta necessità. Abbiamo cercato assolutamente di non lasciare indietro nessuno. Tutte le domande pervenute sono state soddisfatte. Quindi l'impegno che io riconosco al mio assessorato alle politiche sociali è stato veramente un lavorone in mane, perché tenete conto il tutto è stato fatto con l'ausilio di uffici comunali praticamente chiusi, con solo due persone in forza, su 11 a disposizione. Quindi mi premeva sottolineare questo aspetto. E poi la gara di solidarietà che c'è stata e che è attualmente in essere nel nostro comune, come in tanti altri, di sostegno con pacchi alimentari che noi abbiamo praticamente messo in piedi con l'ausilio della Caritas parocchiale della parrocchia San Grato qua di Piscina ed è da scatenato praticamente una gara di solidarietà. Siamo riusciti ad ottenere prodotti gratuiti da diversi esercenti qui di Piscina, da anche aziende più grandi qui del territorio, famose per la produzione alimentare che hanno e tutto ciò ci ha portato veramente ad aiutare la gente, la gente comune senza discriminazione. Questo voglio sottolineare. Vi ringrazio per l'attenzione e buona serata.